Ciao ragazzi, buongiorno e benvenuti in questa nuova video lezione. Oggi parleremo di proiezioni ortogonali. Come vedete in questa sonometria, questa è la proiezione ortogonale, quindi questo è un quadrato che è disposto nello spazio parallelo a PO. E ha un lato parallelo a PV e l'altro lato, distanza questa, e quest'altro lato parallelo a PL. La proiezione ortogonale di questa figura l'abbiamo già fatta e andiamo a vedere le proiezioni ortogonali sul foglio da disegno. Questo è il quadrato, la distanza da PV, la distanza da PL, la distanza da PO. Quindi, nelle proiezioni ortogonali delle figure che sono parallele, piene di proiezione, quando noi vediamo la figura perpendicolare al piano, quindi il punto di vista perpendicolare al piano dove la figura è parallela, quindi questa è la figura parallela a PO, quindi se io guardassi perpendicolarmente a PO vedrei le misure del quadrato nelle reali dimensioni. Quindi se questa è 5 centimetri, quando andrò a fare la proiezione ortogonale, da questo punto a questo punto ci saranno sempre 5 centimetri. Quindi, questa è 5 centimetri, proiezione ortogonale, io parto dal piano da PO e disegno un quadrato con un lato di 5 centimetri. Fin qui non ci sono problemi, però oggi andiamo a realizzare le proiezioni ortogonali non di questa figura, ma di un quadrato, quindi di una figura piana in generale non cambia nulla, quindi però oggi iniziamo a parlare proprio del quadrato, faremo la proiezione ortogonale di un quadrato che invece di essere parallelo a PO è inclinato rispetto a PO. Andiamo a vedere che cosa accade nello spazio. Quindi, seleziono il quadrato e lo inclino rispetto a PO, lo inclino di 30 gradi. Quindi, il quadrato è inclinato rispetto a PO e resta perpendicolare rispetto a PV. Quindi, il lato che ha fatto da perno alla rotazione è questo. Quindi, così il quadrato era parallelo a PO. Adesso, ripeto la rotazione, il lato che fa da perno è questo. Lascio per comodità il primo quadrato, così avete la possibilità di vedere il prima e il dopo. Quindi, questo è un quadrato parallelo a PO. Questo è un quadrato che è perpendicolare a PV. Ed è questa volta inclinato rispetto a PO di 30 gradi. Andiamo a vedere la proiezione su PV. Vedete subito che si è formato un angolo tra il primo quadrato e il secondo quadrato. Quest'angolo è di 30 gradi. Per poter realizzare quest'angolo potrete utilizzare la squadretta a 30 gradi. Quindi, torniamo alla sonometria. Cosa accade rispetto a prima, rispetto alle proiezioni ortogonali che abbiamo sempre fatto? Che quando vado a fare la proiezione su PO? Prima il lato era di 5 cm, adesso è più corto e minore. Prima avevo un quadrato. Adesso, vedete questa nuova figura che si è formata, questa puntinata, non è più un quadrato, ma sarà un rettangolo. Questi saranno sempre 5 cm, ma questa sarà una misura inferiore. Quindi, come poter realizzare la proiezione ortogonale? Perché precedentemente voi facevate il quadrato di 5 cm, 5 cm e iniziavate a disegnare su PO. Ora la situazione si complica, perché questo sì, posso disegnarlo di 5 cm, ma questo? Ora vi farò vedere come si può, uno dei metodi per poter realizzare, le proiezioni ortogonali di una situazione simile a questa. Andiamo nel piano di proiezione. Quella che vedete qui sono le proiezioni ortogonali del quadrato parallelo a PO e voi dovete partire dal quadrato parallelo a PO. Quindi, il punto di partenza è proprio questo. Questo è il quadrato, lo vedete. Questa è la seconda proiezione. Questa è la terza proiezione. Adesso, per poter realizzare le proiezioni ortogonali del quadrato inclinato, la prima cosa a cui devo prestare attenzione è qual è il lato che fa da perno. Il lato che fa da perno è questo. Lo vedete? E questo lato è quello più vicino a PL. Quindi, quale sarà in questa figura? Riflettete un attimo, prima che ve lo dica io. Questo, quindi questo che ho adesso segnato, questo, non è altro che questo lato qui, che adesso ho segnato. Bene. Una volta che ho individuato questo lato, ovvero questo, proseguiamo nel fare le nostre proiezioni ortogonali. Questo lato è identificato da questo punto, questo punto qui, ok? Quindi, una volta che ho identificato questo punto, non faccio altro che fare una semirretta inclinata di 30 gradi rispetto all'asse delle X. Quindi, devo, prendo la squadretta a 30 gradi e traccio una semirretta. Questo angolo, quello che si è formato da qui a qui, è 30 gradi. Ok. Osserviamo nuovamente le proiezioni ortogonali. L'assonometria, scusate. Quindi, che cosa è successo in questo caso? Avete visto? Questo punto ha fatto un arco per passare da qui a qui. Quindi, è come, guardate, Quindi, ora vado a selezionare questo, questa figura. Ok. Guardate che cos'era successo. Lo vedete? Fa un arco. Dove vedo quest'arco nelle proiezioni ortogonali, nel piano di proiezione? Qui. Questo è il centro dell'arco. Quindi, da questo punto, io traccio quest'arco, fino ad intersecare la semirretta che ho precedentemente tracciato. Quindi, questo punto, questi punti, si sono spostati qua in alto. Quindi, questo è 5 cm, questo sarà sempre 5 cm. Bene, a questo punto, la proiezione ortogonale su PV è finita, perché precedentemente io avevo questa proiezione. Ora, la proiezione ortogonale sarà questa. Andiamo a vedere se è vero. Guardate questo. Mi metto, mi dispongo perpendicolarmente a PV. Avete visto? Quindi, questo, il primo quadrato. Questo, il quadrato ruotato. Ok? Bene. Andiamo a determinare la proiezione su PO. Ricordate che cosa accadeva su PO? Che il quadrato diminuiva le sue dimensioni, era più piccolino. Guardate. Quando io metto perpendicolarmente a PIO, il quadrato appare più piccolo. Come determino nel piano di proiezione? Questi punti, questo punto, era questo e questo. Quindi, A' B' A' B' A' B' A' B' Adesso, A' B' A' B' I secondo, B primo. Prima A primo era qui, adesso A primo si troverà qui. Quindi la figura è questa, il quadrato ruotato è questo qui, quello che è evidenziato da questa linea, questa linea, questa linea e questa linea. Vediamo se è vero in assonometria. Eccolo qui, questo. Riprendo, eccolo qua. Cosa accade su PL? Ok, vediamo dove si trova. Quindi se questo era A primo, che adesso si trova qua, A terzo si trovava qui, A secondo adesso si trova qui. Quindi per determinare A terzo non devo fare altro che da qui alzarmi fino a questo punto. tolgo le cose che non interessano. Quindi da qui A secondo, A terzo, A terzo prima era qui, si è spostato in questo punto. Vediamo B, salgo, ecco qui, ed ho determinato anche la proiezione su PL. Vediamo in assonometria, ok, mi metto perpendicolarmente il punto di vista, sposto il punto di vista perpendicolarmente a PL, perpendicolarmente a PL, ecco qui. Questo era il quadrato iniziale, questo è quello che vedo adesso. Questa parte, questa superficie, la superficie inferiore del quadrato. Mi sposto nuovamente perpendicolarmente a PL, ecco qui. Infatti in proiezione ortogonale ho questa visualizzazione. Il quadrato è questo. Identifichiamolo, eccolo qui. Proviamo a mettere le lettere, che possono servire per rendere tutto più chiaro. Proviamo, dicevo, a mettere le lettere. Punto A primo, quello iniziale del quadrato. A primo. A secondo si trova qui, questo sempre prima della rotazione. A terzo si trova qui, prima della rotazione. Dopo la rotazione, a secondo si è spostato in questa posizione. Quindi lo troverò qui, a secondo. A primo, che prima era qui. Adesso lo determino abbassando e portando qui, in questa posizione. A primo. Quindi A primo si è spostato qui, non è più questo. Ed A secondo, che si è spostato in questa posizione, lo cancello. A terzo, andiamo a vedere, anche lui si è spostato in questa posizione. E questo lo posso cancellare. Stessa costruzione per trovare il punto B. B primo, ok. B primo era qui. B secondo. B secondo era in questo punto. Adesso si è spostato qui. Quindi coincide con A secondo. Ok. B primo. Si trova adesso in questo punto. B primo. Non è più qui. B terzo. Andiamo a determinare B terzo. Vedete dove è B secondo? L'intersezione. Eccolo qui. E segniamo dove si trova B terzo. B secondo lo possiamo togliere perché non è più in questa posizione. Queste altre lettere restano invariate. Quindi A B, questo sarà il punto C che non si è mosso. C primo. C primo. Ok. C terzo. D primo. C terzo. C terzo. C terzo. C terzo. C secondo coincide con D secondo e D terzo lo trovo in questa posizione. C terzo. C terzo. C terzo. C terzo. C terzo. proiezione ortogonale è proiezione ortogonale di un quadrato perpendicolare a PV. V con un lato CD parallelo all'asse delle Y. La superficie del quadrato è inclinata di 30 gradi rispetto a Pio. Ripeto. Guardiamolo in assonometria. cancello il primo quadrato. Quindi proiezione ortogonale di un quadrato, ed è questo, perpendicolare a PV. Questo lato, quindi un lato è parallelo all'asse delle Y. La superficie, questa, è inclinata di 30 gradi rispetto a Pio. Ok, con questo vi saluto, ci vediamo la prossima settimana. Cercate di riguardare più volte questa video-lezione e successivamente fare l'esercizio che vi assegnerò. Arrivederci. Grazie. Grazie.